buonasera a tutti questa sera facciamo un video per alex red in risposta ad alex red che mi ricorda di avermi già chiesto cosa ne pensavo della 126 allora anzitutto voglio farvi vedere il nuovo quadretto abbiamo tolto momentaneamente la escort di vatanen che è finita dall'altra parte del così del locale e per movimentare un po lo sfondo se no sarebbe sempre uguale ho messo questo questa bella lavagnetta che possiedo da una ventina d'anni lavagnetta io le chiamo così di legno tridimensionale di quelli tipo tipo irish pub dipinta a mano e è molto è molto carina secondo me perché c'è la porsche di james dean qua quella su cui purtroppo trovò la morte little bastard la 550 e qua c'è lo stesso lo stesso james dean in piedi appoggiato alla pompa e poi sullo sfondo c'è un dinner dove ci sono un free bogart clark gable e qua marylline morrow quella nella scena della dell'aria dalle dalle griglie che gli alza la gonna per cui un bel coacervo di miti ricono tutti ricongiunti nel nella stessa scenetta va bene parliamo di alex red adesso che mi aspetta veramente da quasi un mese credo per questo video sulla 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 126 allora per parlare della 126 bisogna fare una digressione insomma un passo indietro la 126 si innesta su un fenomeno che dal 1965 più o meno in avanti coinvolge tutte le grandi aziende che erano state protagoniste della del fenomeno della motorizzazione di massa possiamo ricordare ad esempio fra le tante prima fra tutte la volkswagen col maggiolino poi la citroen con la due cavalli la gruppo bmc con la con la mini minor la fiat stessa e comunque sia un po tutti gli altri la reno insomma tutti quelli che hanno motorizzato paesi interi cosa succede dopo il 65 le case automobilistiche di questo tipo o quelle grandi prendono un po un cazzotto perché si trovano a dover sostituire delle vetture che hanno fatto il loro successo ma dall'altra parte sono diventate molto scomode perché le hanno caratterizzate in maniera quasi eccessiva facciamo un esempio il maggiolino volkswagen volkswagen era fenomeno era sinonimo scusate di maggiolino cioè non esistevano altre vetture nella gamma volkswagen la volkswagen ha fatto del maggiolino la sua immagine e il suo successo ma al momento in cui il maggiolino cominciava ad invecchiare parliamo già del 1964 65 era già una macchina che subiva i colpi del tempo e della concorrenza la volkswagen si trova molto in difficoltà perché è percepita dal suo pubblico come il maggiolino stesso ma in realtà non ha delle grandi alternative da proporre ci mette quasi dieci anni a dover uscire da questa crisi di identità a questo crisi a questa crisi di marchio se non ci fosse stata la golf la volkswagen probabilmente sarebbe finita sull'orlo del fallimento passando per le varie tipo 3005 k 70 e vario broderi varia natura vario titolo che la portarono sulla strada della modernità molto molto in ritardo la stessa cosa successe alla citroen che poi inventò la diane ma fu un mezzo in successo non piacque la la renault dalla 4 fece la 6 pensando di salvarsi in questa maniera tendendo le linee aggiungendo un po di un po di finitura ma in realtà la macchina fu un mezzo flop anche lì per quanto riguarda la la mini forse abbiamo la peggiore esperienza di tutte perché si andò ad appiccicare il muso denominato clubman sulla 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 vettura di origine per cui allora un corpo vettura tondo e un muso completamente squadrato innestato veramente col martello stilisticamente in un'operazione molto molto infelice da mani nei capelli per cui vedete un po tutti ci passano no la stessa volkswagen fa il maggiolone perché comunque sia prova a modernizzare il maggiolino prima di salvarsi fa il maggiolone però il maggiolone ha successo sulle prime ma subito dopo si spegne subito la 126 fa parte di questa così di questa ondata di sostituzioni tardive malvolute pensate forse un po in fretta che le case automobilistiche hanno posto in essere così trovandosi nelle nelle tagliole di una crisi che non sapevano come risolvere la 126 nasce nel 1972 dopo una serie di figurini intermedi che non erano molto convincenti non erano poi così fantastici e sotto la pelle è né più né meno che la solita 500 con qualche cavallino in più ma parliamo chiaramente era la stessa macchina sostanzialmente sotto e è una ripannellatura sostanzialmente è una così è una ricca ricarrozzare è enorme storicamente 500 e da un certo punto di vista la 126 è un'operazione stilisticamente riuscita secondo me perché per una vettura così piccola siamo sui 3 metri 05 se non vado errato come la come la mini la 126 è esteticamente per i suoi anni assolutamente un risultato piacevole con con un muso molto molto personale con questi fanali che anticipano un po quelli della della 127 no scusate non anticipano seguono ma comunque ricordano quello volevo dire ricordano un po quelli della 127 questi angoli stondati posteriori con i fanali verticali non c'è niente di male nel disegno della 126 anzi è carina e per certi versi ha anche una certa grinta in più della 500 anche se magari perde un pochino di simpatia le prime versioni sono molto rese grintose dai cerchioni molto larghi ben benissimo riusciti quelli che poi in versione un po più stretta andarono anche sulla 500 r e insomma la 126 raccoglie raccoglie un discreto successo come city car porta benissimo avanti il discorso della della 500 probabilmente c'è un errore di fondo nel tenerla in produzione troppo tempo fino a che poi alla fine negli anni 90 la macchina è quasi secondo me è ridicola nella produzione nazionale mio cugino ebbe in regalo una 126 per la patente e fu veramente quasi umiliato secondo lui da questa da questa scelta perché perché la macchina era ancora valida poi le ultime le bis e le fsm erano delle macchine che funzionavano benissimo però il problema era che non non erano più assolutamente al passo coi tempi per la sicurezza per gli per gli spazi e soprattutto per un'immagine che era tardiva ormai da proporre perciò direi che la fiat doveva tagliare col prodotto 126 almeno dieci anni prima circoscritto negli anni 70 secondo me la 126 è un prodotto assolutamente onesto simpatico e che funziona questa è la mia è la mia opinione di di massima sulla sulla 126 alex anche se devo essere onesto il mio cuore batte per la 500 io sono un appassionato di 500 anche la 126 comunque sia è una è una macchina assolutamente onesta dignitosa e è giusto che abbia la sua schiera di appassionati vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao alex ciao la tua 126 buona serata